I risultati delle elezioni parlamentari in Albania hanno di nuovo premiato il primo ministro uscente Edi Rama. Nemmeno lo scandalo dei 910.000 cittadini che sarebbero stati schedati dal partito socialista avrebbe così influito sull'esito del voto. Rama è in carica dal 2013, tre volte vittorioso, non era mai successo in 30 anni di sistema post-comunista. Alla fine i socialisti hanno preso il 49% dei voti davanti al partito democratico, di Lulz in bascia, centro-destra, rimasto al 39%, staccati tutti gli altri. L'opposizione ha denunciato Brogli ma non sembra che abbia speranza di ribaltare il risultato. Il partito socialdemocratico ha conquistato tre seggi e ha già annunciato di voler collaborare con la maggioranza. Fra gli sconfitti proprio il presidente Meta. I socialisti per l'integrazione, partito guidato dalla moglie del capo di Stato, ha avuto un crollo di consensi. Meta non ha potuto che far buon viso, ha cattivo gioco. Sono riuscito a fare in modo che questa domenica di voto trascorresse pacificamente, senza violenze e con una massiccia partecipazione. Sembrava impossibile ma sono soddisfatto che questo 25 aprile abbia dimostrato l'equilibrio della nazione. Va detto che l'opposizione non solo non ha riconosciuto la sconfitta ma aveva addirittura annunciato la vittoria prima di conoscere i risultati ufficiali. Adesso il timore è che gli scontri possano riversarsi in strada. Nei giorni precedenti il voto una persona è morta.